Bene, buongiorno a tutti e benvenuti anche in questo video. Oggi iniziamo a parlare di iniettori. Per esaurire l'argomento ci vorranno vari video, perché è un argomento molto espanso, molto grande. Iniziamo. Si parla molto di guasti agli iniettori, ma in generale con poca profondità e pochi dettagli. È molto importante conoscere almeno i guasti che causano, come e perché. Perché? Rimanete fino alla fine, vediamo cosa succede e come. Si parla molto dei guasti che causano, come e perché. È molto importante sapere che la verità è che non si tratta di una cosa a cui si sfugge. Ci stiamo addentrando in un argomento importante, i guasti causati dall'iniezione. Si tratta di un argomento molto vasto, nel senso che può causare molti piccoli guasti e molti grandi guasti, che possano anche distruggere completamente un motore. Ed ogni modello di iniettore funziona in modo diverso. Oggi siamo arrivati al common rail, che è l'oggetto di questo video e di quelli successivi. Perché? Perché il common rail funziona in un modo, i pompi diesel in un altro, i vecchi iniettori, quelli meccanici convenzionali, in un altro ancora, anche l'iniettore pilotato è un altro sistema. Quindi, per poter entrare sufficientemente nel dettaglio, per capire cosa e quali sono, cosa e davvero quali sono le cause e quindi le soluzioni, crediamo che realizzando questo tipo di video per moduli, si potranno risolvere più dubbi che non trattando generici guasti agli iniettori. Se siete appassionati di motori non c'è alcun problema, perché ci occuperemo dei diversi sistemi e potrete vederli tutti. In questo video tratteremo 6 casi di maggior ripercussione nell'ambito dei guasti al motore. Punto numero 1. Abbiamo il sistema common rail, con un iniettore Euro 3, 4, 5 o 6, che è leggermente aperto. Cosa significa leggermente aperto? Gli ugelli, che sono queste punte che abbiamo qui, in generale si consumano per il contatto di una cosa che si trova all'interno e che sigilla completamente l'uscita verso i cilindri. Se abbiamo una centralina o un'unità di controllo che ci dice che dobbiamo aprire un iniettore di un millisecondo, questo millisecondo tradotto in una quantità iniettata deve essere correlato in qualche modo. Quando in fabbrica progettano un iniettore, quell'iniettore è progettato per fornire un determinato flusso per un determinato periodo di tempo. L'unità di controllo del motore è progettata da BOSS, DELFIN, EMIS e o chiunque altro. Calcola una mappa del motore per quel particolare stadio. Ciò significa che se abbiamo un iniettore difettoso, stiamo falsificando la quantità che si inietterà. Generalmente inizia in eccesso, se inietta poco va bene, non è detto che non succeda nulla, ma diciamo che le repercussioni sono molto minori o praticamente nulle. Direttamente l'auto si accende, va a tre cilindri e uno o più in meno di quello che ha, facciamo una diagnosi, indovidiamo dove è il problema e lo risolviamo sostituendolo, riparandolo o qualsiasi sistema o modello vogliamo usare. Questo non accade quando il guasto è di tipo opposto. Se il lago rimane leggermente aperto o si blocca e quindi non si chiude esattamente quando lo dice la centralina, ma ritarda di un po' la chiusura, quel po' di più che si genera in un'iniezione moderna, di cui voglio farvi vedere alcune immagini, queste fasi di lavoro degli iniettori sono le pre-iniezioni, l'iniezione principale e la post-iniezione. Questo significa che abbiamo molte iniezioni per ogni giro del motore, quindi per ogni compressione abbiamo fatto 5-7 iniezioni e spendiamo un po' di tempo in ogni iniezione. Questo genera un maggior volume di carburante all'interno della camera di combustione, una maggiore temperatura all'interno della camera di combustione e quindi una maggiore espansione dei componenti in movimento, che in questo caso è il pistone. Questo è un problema, il pistone è generalmente progettato per un'espansione controllata in alcune misure che vengano realizzate in fabbrica, non è vero? Vediamo di cosa si tratta. Questo è un pistone convenzionale, questo pistone come tutti gli altri, nella gonna del pistone, la parte più bassa del pistone, ha una dimensione nominale e nella testa del pistone è leggermente più piccolo. Perché è leggermente più piccolo? Beh, questo diametro è più piccolo perché il fuoco di combustione sarà nella camera di combustione. Quindi nella testa del pistone, avere il fuoco nella testa del pistone significa che la testa ha una temperatura maggiore rispetto alla gonna del pistone e quindi si espanderà molto di più. E inoltre la testa ha una massa maggiore rispetto alla gonna perché l'interno del pistone la parte inferiore è vuoto e invece la parte superiore è praticamente solida a parte i passaggi dell'olio. Eseguiamo la misurazione in modo da poter contestare, constatare che le cose stanno effettivamente così. Facciamo per effettuare la misurazione con il palmer, sappiamo che per mezzo 86 si chiama quindi la misura sarà sempre più o meno a mezzo centimetro o poco più dalla fine del pistone che è dove ci sono dei segni prestabiliti in alcuni casi dove c'è questo palmer anti-usura questo primer anti-usura e in altri in modo che si sappia è lo stesso posto è il posto dove si deve misurare. Si noti che c'è una dimensione e una grande dimenticanza qui e questo è dovuto a ciò di cui abbiamo parlato l'espansione del pistone stesso. Quindi avevamo 85.9 un po' e abbiamo 85.154 abbiamo 8 decimi di millimetro di differenza fra la misura della gonna e quella della testa. Questo millimetro è calcolato in modo che l'espansione del pistone quando abbiamo la temperatura del fuoco nella camera di combustione una volta raggiunta la temperatura la misura dell'esercizio diventi completamente cilindrica quindi la misura della gonna sarà la stessa della testa l'alesaggio avrà raggiunto la stessa misura se ci spingiamo troppo in là con l'iniezione lo studio che è stato fatto sull'espansione del metallo cosa succede? Quello studio è invertito la testa crescerà più della gonna e mentre cresce più della gonna non crescerà perché c'è la camicia pertanto ciò che avremo è un grippaggio un attrito abbastanza grande da trascinare materiali tra il pistone e il cilindro quindi un grippaggio qui si può vedere l'allargamento del pistone e quindi il grippaggio tutto intorno soprattutto nelle pareti di contatto verso l'altro ciò è dovuto alla misura quando il pistone è eccessivamente steso a causa della temperatura l'intera parete laterale viene grippata a causa dell'esuatatura quando la biella sarà montata le pareti di contatto saranno sempre quelle perpendicolari all'albero questa parete e questa parete qui saranno quelle che si troveranno in contatto in costante appoggio contro la canna del cilindro verso l'alto e verso il basso un'iniezione eccessiva anche se di poco è abbastanza fuori portata da provocare l'espansione se romperà esploderà il punto numero 2 è esposto in un'altra causa un po' più generica che non causa altrettanto i danni ma è abbastanza evidente e l'avete visto molte volte non sono c'è ne sono certo non gli iniettori alle estremità degli ugelli hanno dei gei quando il gasolio esce dalla punta degli iniettori questi generano delle scanalature questo tipo di cono cresce dalla punta dell'ugello fino alla camera di combustione se la punta dell'ugello è vicina alla camera di combustione nella parte superiore del pistone quando questo esce è lì che si genera l'iniezione l'iniezione deve colpire esattamente questi punti che stanno osservando i cerchi che abbiamo intorno al pistone sono quelli generati dal getto di carburante a forma di flauto che esce a 1700 1600 2400 bar il common rail parte dal 950 bar e arriva a 2200 il valore più comune di Bosch è di 150C di 115 che corrisponde a circa 1700 o 1800 nella stragrande maggioranza dei veicoli è stato stabilito che il limite per i pistoni in alluminio è di circa 2200 bar dopodiché è necessario implementare i pistoni in acciaio perché l'alluminio non è più sufficiente a contenere quel fuoco e quella pressione di esercizio guardate il dettaglio di questi cerchi che sono quelli che vi ho mostrato nel pistone precedente ma questa volta li vedete disegnati perché si tratta di un pistone che ha lavorato a lungo all'interno di un motore quindi questi punti neri questi cerchi o meglio questi cerchi perché sono pieni sono completamente segnati ne ha sette ne ha sette tre e uno questi sette sono perché si tratta di un euro cinque per questo motivo ha sette getti riuscirete a vedere questo tipo di flauti è molto complesso perché normalmente l'iniettore è montato all'interno della testata all'interno del cilindro è tutto coperto e si sente il solo i clic 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 l'iniezione viene interrotta nient'altro non si vede nient'altro abbiamo preparato un video a rallentatore per farvi vedere i getti gli ugelli le scanalature che generano come impattano all'interno di una camera di combustione quello che vedete ora è esattamente l'effetto che provoca se guardate molto lentamente con la telecamera più lenta possibile potete vedere come il getto esce e colpisce il vetro in un cerchio questo effetto è quello che si genera all'interno delle camere di combustione in questo punto numero due ciò che ci interessa quando uno due e tre sono coperti dall'occhiello è a causa della carbonizzazione che si genera questo diventa sempre più evidente coprendo il gesto quando si arriva a tappare o deviare il getto ciò che si provoca è il fumo lo vediamo al minimo mentre acceleriamo ma si tratta comunque di cattivi fumi di combustione se non riusciamo a incanalare correttamente il gasolio nella camera di combustione non riusciamo nemmeno a nebulalizzarlo a sufficienza con l'aria la miscela è molto importante la turbolenza che si gira all'interno della camera di combustione darà luogo a una miscela molto più omogenea rispetto a quella che si ottiene se l'iniettore gocciola o cade direttamente da quella superficie e quindi molto importante mantenere gli iniettori di tanto in tanto sarebbe necessario utilizzare qualche prodotto che descorbonizzi gli iniettori e smontare gli iniettori e farli passare su un banco ESL per analizzare il corretto funzionamento alla minima ombra di dubbio che l'auto sia in mal funzionamento un sussulto del motore o del fumo nello scarico è necessario analizzare questa parte per evitare ulteriori danni punto numero 3 il punto numero 3 ci spiega un po' cosa succede quando una valvola è leggermente aperta o più aperta del dovuto in accelerazione a pieno carico quando il motore funziona al minimo funziona più o meno correttamente ma quando lo mettiamo a pieno carico cioè quando gli iniettori espellano una grande quantità di gasolio e anche in più fasi quando questo accade lo spillo rimane leggermente aperto l'iniettore schizza quando il fuoco che si genera all'interno della camera di combustione è come una fiamma ossidrica e questa fiamma ossidrica genera ciò che vediamo qui si noti che questa parte del materiale è scomparsa qui avevamo una circonferenza perfetta e tutta questa parte è scomparsa e abbiamo generato un grippaggio laterale l'intero contorno del pistone è stato bloccato dall'eccesso di calore ripeteremo questa operazione in diverse occasioni perché si tratta di un problema generale normalmente il grippaggio avviene sempre all'esterno a causa dell'espansione con conseguenze più o meno gravi a secondo del grado di sovrappertura in questo caso il problema si presenta solo in fase di accelerazione non al minimo ma durante l'accelerazione si consuma questa parte del pistone ciò si nota con un forze sovraccarico e un effetto di battito che si sente come un clac 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 durante l'accelerazione questo suono ci dice che nel cilindro è presente un eccesso di casolio blow off elemento numero 4 riguardo le pompe dell'ultimo modello prima della common rail che sono la WPN44 da 30 a 44 le WP44 quando avevano un tiraggio all'interno in avanti causavano danni se all'indietro genera più calore nella combustione e produce effetti peggiori perdiamo potenza non tira quando dovrebbe tirare il veicolo quindi forziamo di più e le camere di combustione generano molta temperatura che è difficile da evacuare perché iniziamo nel momento sbagliato dopo che il cilindro ha superato il punto molto superiore stiamo già scendendo è lì che si sviluppa il fuoco più grande non è efficace genera solo calore se invece il punto è avanzato come prima del calcolo stabilito che deve iniettare iniziamo già prima di raggiungere il punto molto superiore avremo il massimo del fuoco questo genera che quando raggiungiamo il punto molto superiore abbiamo già un impatto contrario quindi un'immersione il nome comune di questo fenomeno è Crank Now il bussare è un effetto molto dannoso perché prima mangia i cuscinetti di biella e se non basta piega la biella e buca il blocco in questo modo distruggiamo il motore quando la pompa è arretrata non abbiamo fatto il rodaggio corretto della pompa il risultato è questo il pistone è fuso completamente a causa dell'eccesso di calore generato si inizia con un leggero grippaggio quando questo grippaggio genera un passaggio dell'olio direttamente nella camera di combustione ciò che provoca è la completa distruzione dell'intera testa anzi la fa letteralmente a pezzi e la fa uscire dallo scarico distrugge completamente quel cilindro e quel pistone quando abbiamo un problema con il motore che non si avrà facilmente e con molta velocità di avviamento e non riusciamo a farlo dobbiamo alimentarlo con l'etere o con qualche spray che lo arricchisce l'aria in modo da provocare detonazioni in quel momento il motore si avvia e rimane al minimo corretto ciò che accade è che stiamo involontariamente dando più giri al motore di avviamento in modo che la pompa generi la pressione necessaria per aprire il resto degli uccelli la pressione che si genera all'interno di un elemento di guida come common dove si trovano i quattro tubi e liquidi come sapete non sono comprimibili pertanto la pressione deve essere generata costantemente e l'unica cosa che la pressione fa è esercitare una pressione sui liquidi stessi ma non diminuisce di dimensione rimane della stessa dimensione ciò significa che se non conteniamo questa pressione all'interno del condotto non importa quanto piccolo sia l'apertura che apriamo tutta la pressione verrà rilasciata in una volta sola in quella soluzione la semplice sostituzione dell'iniettore o degli iniettori risolverebbe il problema il problema si presenta quando l'iniettore l'iniezione avviene nel cilindro in quel momento se aiutiamo il motore ad avviarsi in qualche modo si avvia sentiamo un clac clac quando acceleriamo ciò che avviene è l'effetto battito dovuto all'eccesso di carburante all'interno della camera di combustione questo eccesso di carburante finisce per generare una rottura del pistone nel migliore dei casi o addirittura la rottura della biella o il pizzicamento del nocciolo e porta via l'albero a gomiti e tutto ciò che incontra davanti a sé ecco un esempio il pistone è completamente staccato dalla parete si è addirittura creato un foro che porta direttamente alle fasce elastiche questo foro causa del passaggio del fuoco che porta all'olio quando si rompe un pistone una parte dell'olio viene condotta nella camera di combustione l'olio è qualsiasi altro tipo di liquido più è pesante più ha bisogno di temperatura per detonare e bruciare il diesel oggi è molto raffinato e non è come la benzina non ha assolutamente nulla a che fare con la combustione del petrolio quando arriviamo al punto di bruciare olio offriondiamo subito l'intero pistone si ridurrà a nulla il pistone si è rotto si è forato ma non ha causato altri danni oltre a quello e nella canna del cilindro del pistone quindi la soluzione è chiara dobbiamo rettificare sostituire il pistone e cambiare l'iniettore non si cambia mai un solo iniettore gli iniettori per considerarsi come fratelli sono stati prodotti tutti nello stesso momento sono stati assemblati nello stesso momento e hanno più o meno la stessa vita utile quando rompiamo un iniettore presto ne rompiamo un altro e subito dopo un altro e un altro ancora ogni volta corriamo il rischio di avere una rottura nel prossimo futuro quindi per evitare questo quando sappiamo che già un iniettore è difettoso dobbiamo ripararli tutti o sostituirli tutti non teniamone solo uno perché stiamo giocando alla roulette russa punto numero 6 è possibile che si sia verificato un guasto al tubo che ha causato l'autoaccensione l'autoaccensione si verifica quando si ha un'accelerazione spropositata senza che si prema alcun tipo di pedale vediamo che il motore sale di giri e ci spaventiamo e nel migliore dei casi riusciamo a inserire una marcia a stallare il motore per rallentare quella marcia e conservare la meccanica una volta fatto questo possono succedere due cose o abbiamo danneggiato il motore o non lo abbiamo danneggiato oppure no se il motore si è danneggiato come lo farà? consumando parte del pistone come nel caso precedente che abbiamo visto consumerà parte del pistone nel migliore dei casi si tratta di uno scenario di autocombustione se la cosa è andata oltre questo accadrà avremo un deterioramento dell'intera superficie del pistone che si spaccherà il cilindro e distruggeremo completamente il motore ma a questo punto quello che voglio vedere è quanto non è così evidente perché è molto facile da diagnosticare perché quando si preme il pulsante di avviamento dopo il cambio del turbo e sto divagando non sapete esattamente che cosa è l'autoaccensione e la rottura del turbo ci sono vi lascio un paio di video in modo che possiate vedere questo tipo di rotture ci sono e perché si verificano in realtà quando abbiamo un danno molto evidente come nel caso in cui un pistone sia stato mangiato quando avviamo il motore dopo aver cambiato il turbo avremo un avvio difficile e nel migliore dei casi partirà non sentiremo un rantolo bestiale che ci indica che il cilindro non sta funzionando e che sta portando via tutto il metallo che c'è e cosa che in molte occasioni non è così evidente sostituiamo il turbo mettiamo in moto l'auto e tutto sembra perfetto non si notano segni di alcun tipo e quando si presume che l'unico guasto sia stato il turbo naturalmente questo può accadere ma può accadere anche qualcos'altro cioè che il danno non sia così evidente ma che ci sia un danno e che si siano generati temperature molto elevate che hanno deteriorato gli ugelli degli iniettori tre situazioni molto comuni questo tipo di iniettore è un euro 5 come potete vedere e qui c'è un rigonfiamento la testa dell'ugello è cresciuta più della parte inferiore dell'ugello questo accade quando la temperatura interna è elevata la pressione all'interno dell'ugello la pressione del gasolio stesso è come soffiare il vetro il vetro si apre perché il vetro si apre? si apre perché è ad alta temperatura per fare le bottiglie si fa così non è diverso da questo caso se diamo una temperatura sufficiente all'ugello e creiamo una pressione all'interno ciò che faremo sarà un riempimento l'accumulo significherà che la punta non sarà più utile ma funziona prima o poi si aprirà il passaggio diretto e si genererà la distruzione che abbiamo visto prima della combustione sulla testa del pistone un altro caso è quello che vediamo qui abbiamo degli orefizi di uscita di solito gli orefizi degli ugelli sono microscopici se guardate qui ecco un normale cavo di installazione ne misureremo il diametro lo faremo con un calibro qui se guardate abbiamo un diametro di 0,25 se guardate questo ugello dovrebbe avere è un euro 5 dovrebbe avere un limite massimo di un decimo il filo può passare perfettamente all'interno dei fori e questo avviene per la stessa cosa che è successo prima nella scatola di riempimento di cui abbiamo parlato ciò che accade qui è che le aperture degli orifizi dell'ugello stesso sono cresciute per dilatazione si tratta di un'uccisione diretta appena avviato inizia a spruzzare gasolio all'interno se si riesce a farlo partire normalmente in questa casa in questa fase non saremo in grado di avviare il motore ma se lo avviamo lo distruggeremo completamente il terzo punto è il distacco della cupola se si guarda la cupola dell'ugello questa non esiste più è completamente scomparsa questo accade perché i fori sono cresciuti direttamente fino all'espulsione della punta questo è già un getto diretto quindi la pompa non sarà certamente in grado di avviare il motore ma non genererà la pressione necessaria affinché il resto degli iniettori si apra quando è il momento pertanto il motore non si avvierà e se lo avvieremo in modo forzato lo romperemo e ora per poter confrontare una punta corretta ecco un ugello nuovo di secca e un iniettore nuovo di secca e se lo guardate ho messo come dettaglio lo stesso esempio che abbiamo messo nell'iniettore quando era in cattive condizioni qui si possono confrontare i fori questo è un euro 4 questo iniettore proviene da un euro 4 si vede perfettamente che il foro è circa la metà di diametro di questa filettatura che abbiamo usato prima il foro è metà su un euro 4 su un euro 5 è ancora più piccolo immaginate quindi la temperatura che si è originata in quel punto per espandersi fino a zero la punta degli ugelli sono a zero non si tratta di ferro morbido pertanto quando raggiungiamo il punto di fusione dei metalli ciò che accade ai cilindri è molto negativo e questa è la fine di questo video spero che vi sia piaciuto io vi do un saluto arrivederci al prossimo video buona giornata a tutti grazie a tutti